eccoci tornati in diretta con le fonti penale d'impresa tv week la nostra settimana dedicata proprio al penale d'impresa la seconda edizione di una settimana che già aveva acceso i riflettori su la criticità del sistema di giustizia italiano il nuovo processo penale a distanza una settimana che avevamo dedicato nell'estate quando eravamo da poco usciti per così dire dalla dall'emergenza covide ma comunque con tutte le novità che si erano inserite nel contesto del penale torniamo anche in questa settimana proprio per il grande successo che aveva avuto perché rimangono sulla superficie tanti interrogativi che ruotano intorno appunto a le varie figure alle varie ai vari attori che sono inseriti in questo contesto allora nel decreto 231 questa è un po la premessa della dell'approfondimento che faremo in questo spazio decreto 231 del 2001 il legislatore per spingere le società ad adottare un modello organizzativo ha disegnato tutto un sistema di incentivi che in questa trasmissione cercheremo di spiegare anche ai non addetti ai lavori capiremo insieme cercheremo di capire insieme potenzialità e criticità la disciplina pensate nonostante sia giunta ormai al ventesimo anno di applicazione continua a far discutere a non trovare un'interpretazione univoca in sede di giudizio capiremo quindi se ci sono ancora dei correttivi che si possono apportare e se sia possibile rivitalizzare usiamo questa parola in qualche modo il decreto 231 salvaguardando nella razza di prevenzione io ne parlerò con damiano giunti che è in collegamento con noi avvocato e co-founder di compliance 231 una società nota anche come c231 avvocato grazie per essere qui e benvenuto sulle fonti tv salve a tutti buongiorno innanzitutto vi volevo ringraziare a dove mio 9 del team di c231 che nel frattempo è diventato divisione liga della società creios srl per averci dato la possibilità di intervenire questa mattina su un tema che a me diciamo è molto caro effettivamente come lei ha evidenziato correttamente la riforma 231 l'anno prossimo festeggia 20 anni di vita ciò nonostante sono rimasti aperti nei profili motivoli di criticità dal punto di vista applicativo che rendono effettivamente spesso difficoltoso per l'azienda allinearsi al contenuto di questa riforma ciò nonostante si può dire che è stata una riforma fondamentale si è parlato spesso anche di una vera e propria rivoluzione copernicana perché dopo il 2001 gli orizzonti punitivi del nostro sistema si sono ampliati fortemente infatti in precedenza in presenza appunto di un illecito penale poteva rispondere diciamo dal punto di vista punitivo dell'illecito soltanto la persona fisica autrice di questo reato con l'entrata in vigore del decreto 231 alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge una responsabilità sebbene formalmente amministrativa sostanzialmente però di tipo penale che investe lente collettivo quindi su tutti le società quindi le imprese ed è una riforma che sicuramente ha segnato la storia del nostro sistema penale perché ha cercato di far proprio l'approccio del cosiddetto appunto carol bastone della carota e carrot stick approach matrice anglosassone infatti il nostro ordinamento è consapevole che per sconfiggere certe tipologie di criminalità su tutto appunto la criminalità d'impresa è richiesto una cooperazione diretta da parte appunto dell'organizzazione complessa e quindi dell'azienda allora il decisatore cosa ha fatto minacciando l'applicazione della sanzione sostanzialmente punitiva di cui al decreto 231 nei confronti dell'azienda ha cercato di spingere quest'ultimo a dotarsi presidi e protocolli adeguati a prevenire il rischio reato e lo ha fatto bene hanno il sistema di incentivi che nella migliore delle ipotesi può portare addirittura lente alla resente una responsabilità e il fulcro di questo sistema come sicuramente ormai sapranno benissimo le aziende è l'adozione del modello di organizzazione gestione e controllo ecco il valore premiare del modello si atteggia in modo diverso a secondo che il modello appunto idoneo a prevenire il rischio reato sia stato adottato o meno ed efficacemente attuato prima della commissione del recito o dopo nel primo caso alle condizioni del decreto nostro ente la nostra azienda potrà andare sempre la responsabilità nel secondo caso qui nella prassi si parla spesso anche di modello riparatore l'azienda potrà usufruire qualora venga avviato un procedimento nei suoi confronti un trattamento sanzionatorio sicuramente più favorevole diciamo che quindi il sistema premiale è abbastanza complesso certo certo assolutamente sì insomma questi sono i primi punti diciamo da cui siamo partiti anche noi per entrare nel merito di quello che ha comportato no per le aziende questo decreto 231 con tutti i punti interrogativi è corretto dire questo avvocato quello che ha detto all'inizio che ancora rimangono e che bisognerà in qualche modo sanare strada facendo certamente restano dei profili di criticità nell'ambito applicativo di questa disciplina che determinano poi i profili di incertezza per le stesse aziende che si trovano appunto ad adottare un modello di organizzazione gestione e controllo diciamo che il primo profilo di criticità ecco infatti avvocato giuntemi scusi se la interrompo ma solo per ridarle ancora in modo più forte la parola perché è l'obiettivo di questa trasmissione anche proprio andare nella pratica allora a me piacerebbe che anche in base all'esperienza dei vostri clienti lei ci dicesse proprio quali sono lo stava già facendo insomma però mi piace sottolineare che è proprio le criticità sono emerse emergeranno da adesso in avanti a seconda della vostra esperienza diretta no quello che i vostri clienti vi dicono che poi è la cosa migliore quali sono le criticità che sono contenute nella nel decreto insomma nella formulazione del decreto allora uno dei profili che emerge costantemente nei rapporti con i nostri clienti è il fatto che le aziende si scontrano spesso con una disciplina che non è diciamo molto determinata nel senso che non dà indicazioni univoche su come andare a costruire i presidi da inserire nel modello di organizzazione gestione controllo quindi in sostanza se noi scorriamo anche il testo del decreto 231 vediamo che il legislatore ha deciso di definire solo alcuni principi fondamentali alcune metodologie da seguire nella redazione del modello ma non si è spinta a dare indicazioni univoche in realtà su quali presidi poi l'azienda deve ricepire e all'interno del modello adattandoli alla propria realtà diciamo organizzativa questa lacuna è una lacuna chiaramente che mettere le aziende in forte difficoltà perché nella sostanza sono responsabilizzate in tutto e per tutto nella scelta degli strumenti con cui gestire il rischio reale in più se mi si consente anche nella guida dell'associazione di categoria che sono comunque uno strumento valvo per ossupire alcune carenze non sono riuscite a permettere appunto di dare un'integrazione forte alla disciplina pensata dal nostro legislatore questo perché comunque sono uno strumento flessibile a base essenzialmente volontaristica che poi alla stessa giurisprudenza avere fortemente le potenziate che giurisprudenza per le aziende spesso costruiscono il proprio modello proprio attingendo dalle linee guida giurisprudenza ci ha detto che fare questo non è garanzia di aver costruito un modello adeguato e quindi resta aperta la possibilità per l'ente collettivo di vedersi dichiarato in idoneo il modello organizzativo ed essere sanzionato in più le aziende questo clienti appunto ce lo confermano costantemente quando vengono coinvolti in un processo ex 231 si scontrano poi con il rigorismo della prassi giudiziaria perché la giurisprudenza è sempre rimasta un po diciamo quasi incapace a dare corretta attuazione ai principi del decreto cioè si legge nelle pronunce della giurisprudenza un atteggiamento molto destino a riconoscere il modello organizzativo dell'azienda un modello adeguato e finisce quindi per condannare l'ente collettivo questo perché nelle pronunce della giurisprudenza emerge quasi un pregiudizio diciamo che sempre un po semplice fatto che un reato è stato commesso si dice il modello idoneo chiaramente il decreto non chiede questo perché altrimenti le aziende si troverebbero sempre costantemente ad essere condannate nel processo e questa incertezza pone le aziende in una situazione alquanto paradossale perché già devono sostenere costi ingenti per aggiornare ad uguale la propria compliance in ottica 231 ma non sanno neanche se questo sia corretto e opportuno per loro parlo perché qualora decidano di investire in compliance adottando un modello 231 o aggiornando efficacemente il proprio non sanno se questo investimento verrà adeguatamente ripagato con la diciamo pronuncia assolutoria e quindi quando va bene ritarda l'investimento alla fase successiva all'avvio del procedimento e questo un fatto che aumentare le incertezze e di potenziare la razza di prevenzione del decreto 231 ecco senta faccio io un po l'avvocato del diavolo in questo caso vediamo se ho capito bene per cercare di fare il passaggio ulteriore sembra un po un cane che si morde la coda perché lo ha detto lei le società che investono in compliance quindi dotandosi di un modello 231 lo fanno ma non sanno che cosa succederà dopo cioè non sanno se verranno ricompensate in in un processo nei loro confronti fondamentalmente è corretto giusto avvocato capito bene è corretto e mi si conceda anche di aggiungere un elemento non sanno qualora decidano di collaborare con l'autorità giudiziaria una volta commesso l'illecito se questo impegno venga prenato perché il nostro avviamento non valorizza la collaborazione processuale dell'ente ecco ma a questo punto vediamo di cercare una possibile soluzione a questo meccanismo un po incriccato com'è possibile correggere il tiro quindi facendo scattare un meccanismo più virtuoso appunto e non che si arrotoli su se stesso ecco altri autorevoli colleghi prima di me hanno ritenuto opportuno effettivamente intervenire con delle riforme che vado a toccare la sostanza del decreto 201 e il primo livello è quello di innalzare la determinatezza del sistema in punto di adeguatezza nel modello organizzativo cosa vuol dire in parole semplici segni che innanzitutto già prevedere una disciplina più puntuale per quanto riguarda alcuni aspetti della parte generale del modello che nella classe applicativa hanno gestato le problematiche mi riferisco per esempio allo statuto normativo o ai flussi informativi poi prevedere già dei macro presidi diciamo delle macro cautene e poi serviranno soprattutto per la parte speciale all'interno del testo legislativo cioè inserirne già a livello legislativo un po come è accaduto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'articolo 30 dell'eperro 81 e come sta accadendo nel progetto di riforma in materia di reali a gradimentare l'altro step è quello di prevedere una vera e propria procedura che sia diretta a positivizzare i migliori presidi 231 sulla base appunto di migliori practice e migliori standard e questa procedura dovrebbe vedere attiva una commissione l'hanno sottolineata appunto per i colleghi a cui debbano partecipare esponenti delle professioni avvocati le visioni consulenti nonché esponenti dell'istituzione magistrati giudici pubblici ministeri esponenti nel mondo dell'impresa dell'associazione di categoria appunto per esecutivo il compito quello di lavorare e aggiornare un valemecum di presidi che possa servire all'azienda per edificare al meglio il proprio modello di R21 e questo andrebbe accompagnato a livello decisativo con una presunzione di donetà del modello che recepisce queste regole che non significa diciamo abdicare all'idea che l'azienda debba avere un modello cucito su misura ma significa tutelare quelle aziende che nel modello hanno inserito gli standard che sono maggiormente riconosciuti dagli esperti in materia in più a completamento di questo sistema dovremmo anche agevolare l'azienda in fase di redazione o aggiornamento del proprio modello con sistemi di cooperative compliance cioè debbano poter rivolgere istanze o interpelli all'amministrazione in modo da poter risolvere le incertezze applicative emerse in questa fase e andrebbe infine potenziato il sistema a premiare a vantaggio dell'ente collettivo ovvero prevedere qualora l'ente una volta commesso l'illecito decida di cooperare attivamente con l'autorità giudiziaria anche all'esito di indagini interne poter usufruire di una causa di non punibilità qualora tale collaborazione sia stata efficace e tempestiva tra l'altro questo lo hanno detto appunto anche augurevoli esponenti della dottrina implicherebbe regolamentare per la prima volta in modo sistematico il mondo dell'internal investigation che ad oggi non trova appunto adeguato appimio normativo ed estendere l'istituto della messa alla prova a vantaggio dell'ente collettivo rispetto alla quale la giurisprudenza salvo una recente pronuncia del tribunal di modena ha sempre avuto un atteggiamento piuttosto vestito combinando soprattutto questi due elementi la messa alla prova e la causa non punibilità con quelle caratteristiche appena descritto si riuscirebbe a rivitalizzare anche il sistema premiale delle due tre uno ecco avvocato lei sa che però non è finita qui perché se volessimo parlare nuovamente di ulteriori criticità la disciplina è tornata proprio negli ultimi mesi con forza sui tavoli di lavoro perché c'è stata questa estensione ai reati di natura tributaria quindi mi viene da pensare che ci sono ci siano altre incertezze che gravano proprio sulle aziende oggi quali sono la prima diciamo difficoltà che hanno trovato le aziende a causa di queste riforme è stata legata all'attività di aggiornamento dei propri modelli organizzativi perché chiaramente è stata una riforma che ha spinto le aziende a dover procedere ad aggiornare modelli esistenti tuttavia la prossimità temporale delle due riforme la legge 157 al 2019 e del 75 nel 2020 che ha dato attuazione a direttiva pif ha fatto già sì che in fase di primo aggiornamento le modifiche al modello dovessero essere realizzato avendo assumendo un occhio prospettico che guardasse anche appunto al successivo ricevimento della direttiva pif quindi in sostanza i correttivi in alcuni casi apposto dalle aziende potevano presentare delle discrezie rispetto alla seconda novella entrata in vigore nell'estate questo ha fatto sì che le aziende appunto dovessero svolgere un'attività già complessa come la relazione del modello alla luce appunto di riforme che a distanza di poco tempo hanno toccato un bel due volte la materia di decidere di dare poi queste riforme pongono anche altri problemi non solo applicativi ma diciamo teorici perché l'ente collettivo da un lato rischia di incorrere in un trattamento sanzionatorio che può sembrare sproporzionato alla stregua del principio dell'issimile infatti l'ente rischia non solo di incorrere nell'applicazione prevista appunto da decreto 21 che è sostanzialmente punitiva sebbene formalmente amministrativa ma anche in una sanzione amministrativa tributaria che alla strega e criteri Engel potrebbe essere calificata tra tutti di tutto e per tutto in una sanzione sostanzialmente punitiva e infine diciamo queste riforme hanno rappresentato anche un'occasione mancata per adeguare e aggiornare il sistema premiale a vantaggio dell'ente collettivo finendo per realizzare anche effetti paradossali perché lo si è potenziato a vantaggio della persona fisica ampliando l'ambito dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto 74 2000 al tema dei decidi tributari ma lo stesso non è stato fatto per l'ente collettivo finendo quindi di riflesso per depotenziare ancorché in maniera diretta il sistema di incentivi previsti a vantaggio della persona giuridica ecco le faccio una domanda un po mi permette l'espressione terra terra prima di arrivare alla domanda conclusiva che ci permette anche di capire più praticamente che cosa a questo punto si potrebbe fare cioè a livello di suggerimento ma è il classico caso avvocato in cui una riforma fa peggio tra virgolette poi chiaramente bisogna entrare nello specifico cosa che stiamo cercando di fare noi ma che per peggio intendo che crea ancora più confusione lei ha parlato di paradosso ha detto è un'occasione mancata è stata anche un'occasione mancata per fare delle cose che effettivamente avrebbero potuto aiutare le aziende sì il rischio diciamo dire che ha fatto peggio forse è una parola molto forte però sicuramente è apparsa sotto certi aspetti incompleta e poteva rappresentare l'occasione per approfondire appunto alcune problematiche di cui si discute da tempo da quelle di cui parlavo io in precedenza che in realtà appunto per esigenze anche di tempo non è stato fatto e questo è un po' una caratteristica in realtà della nostra legislazione negli ultimi anni la mancanza appunto di approfondimento e di accortezza quando si interviene le sue riforme complesse certo certo assolutamente sì ecco come dicevamo mi piacerebbe arrivare anche a conclusione di questo spazio però con qualcosa di mirato cioè sempre a partire dalla sua esperienza e di chi si rivolge a C231 quali suggerimenti potremmo dare insomma alle aziende che ci stanno seguendo a coloro che ci stanno seguendo che sono davvero interessati a capire come affrontare queste criticità ecco delle parole che io insieme al team di C231 spesso rivolgiamo all'azienda sono le seguenti cioè sebbene sia un periodo difficile per l'azienda dal punto di vista economico e finanziario anche per via delle problematiche legate al Covid-19 è sicuramente il momento storico più adatto però per intraprendere un efficiente percorso di compliance 2-3-1 perché dico questo può sembrare una contraddizione ma perché i orizzonti trattati dal legislatore sono orizzonti appunto chiari lo confermano le recenti riforme che hanno investito reali tributari progetto di riforma a tema di reati alimentari poi progressivo si passa anche il termine spasmodico all'alteamento del numero di reati presupposto della responsabilità dell'ente confermano come quest'ultimo in futuro giocherà sicuramente un ruolo sempre più decisivo nelle scelte di politica criminale senza dimenticare che il legislatore sta spingendo sempre di più per l'adozione appunto anche di sistemi di compliance integrati si pensi tutto il dibattito connesso al task control framework è entrato in vigore nel 2036 del codice civile tema di rilevamento tempestivo della crisi di impresa quindi diviene ormai imprescindibile per le aziende investire in compliance soprattutto investire in compliance nella gestione del rischio reato ecco nonostante questa scelta possa risultare appunto difficile per le aziende anche alla luce delle incertezze che ho detto precedentemente tuttavia il nostro avviso secondo noi di C231 la risposta migliore per ovviare appunto ad una regolamentazione spessa incerta quella di costruire più possibile modelli organizzativi che siano tagliati su misura sulle specificità dell'azienda perché dico questo perché le aziende siano esse grandi medie piccole solitamente a loro interna già dei buoni anticorpi contro il rischio reato e la sfida nella costruzione del modello 231 consolidarli nel modello in modo che l'azienda abbia una struttura organizzativa idonea alla gestione del rischio reato e quindi capace di far fronte anche a quelle incertezze dovute ad una normativa 231 che si passa in termini un po' incompleta sì sì ecco questo sicuramente è il termine più giusto avvocato poi lei ha giustamente rimarcato come tutto questo si inserisca in un momento difficile più difficile insomma per tutte le imprese e sappiamo bene quali sono le ragioni infatti anche in apertura insomma io ho ricordato che anche queste tv che questi spazi di approfondimento servono a orientarsi maggiormente con qualche consiglio in più con qualche riferimento in più in un periodo e in un contesto storico sicuramente complicato insomma quindi il consiglio numero uno avvocato e poi la salute è quella di rivolgersi a chi veramente può aiutare a seconda delle specificità delle caratteristiche aziendali via dicendo a superare questi gap che insomma ancora non sono stati risolti sicuramente può diventare lo strumento migliore per ovviare ad una disciplina incerta e spesso appunto anche diciamo difficoltosa per l'azienda va bene allora io ringrazio Damiano Giunti avvocato e co-founder ricordiamo di Compliance 231 C231 insomma grazie per tutti questi suggerimenti mi auguro ci sarà anche ancora l'occasione di sentirvi per speriamo aggiornare presto su qualche risoluzione delle criticità che abbiamo messo sul tavolo oggi certamente per noi sarà un piacere va bene allora grazie mille davvero per i preziosi consigli e buona giornata presto grazie a lei buona giornata buona giornata questo è uno dei nostri approfondimenti delle fonti penale d'impresa tv week che parte oggi e che andrà avanti tutta la settimana con focus specifici dedicati alle responsabilità penale per imprese e imprenditori che sono cambiate negli ultimi mesi e non solo quindi con tutto ciò che è importante conoscere in questo contesto andiamo in pubblicità torniamo tra poco sui mercati grazie a tutti